Il gruppo di minoranza Castellammare 2.0 ha fatto un'iniziativa forte, l'autosospensione dai lavori del Consiglio Comunale e della Commissione per dare una svegliata tra virgolette all'intera Sise alla luce di queste ultime indagini che hanno riguardato la città di Castellammare del Golfo e che tirano in ballo anche il primo cittadino. Io ritengo che l'iniziativa vada stigmatizzata perché è assolutamente al di fuori di una cornice di azione coerente con quello che è l'interesse dei cittadini di Castellammare. Ritengo che sia stata un'attività assolutamente strumentalizzata e fine soltanto a produrre visibilità per i consiglieri comunali. Questo mio convincimento matura sulla base di quello che hanno scritto sui documenti che hanno prodotto in Consiglio Comunale ed in vero si parla in modo particolare del dubbio sull'inquadramento temporale di questi fatti. Ebbene io ritengo e l'ho fatto anche in Consiglio Comunale il giorno stesso che una più attenta analisi dei dati a cui hanno avuto accesso i consiglieri che avrebbe permesso loro di verificare come in alcuni casi si parla del 2001, in altri casi si parla del 2004 e in altri casi ancora si parla del 2015 fino al 2020. Quindi l'inquadramento temporale certamente non è ascrivibile a questa amministrazione ma è ben più radicato ahimè nel tempo. Quindi se arriva un sollecito a valutare nel tempo il fenomeno mafioso noi siamo ben lieti di prenderne atto. Ma che si possa far passare il messaggio di una vicinanza tra questi episodi dal punto di vista della rilevanza penale e l'amministrazione questo è inaccettabile e non lo possiamo evidentemente passare sotto voce. Lei è anche un avvocato però l'avviso di conclusione e indagini per quanto riguarda una decina di soggetti parla di tentativi più o meno riusciti di influenzare le attività economiche, gli appalti pubblici e anche di ostacolare il libero voto, l'esercizio del voto. Purtroppo però nell'avviso di conclusione e indagini si parla soltanto di consultazioni elettorali, non si parla di alcuna data quindi resta sempre un aspetto pesante per la cittadina castellamarese. Questo è vero ma nell'avviso di conclusione e indagini nell'individuare il periodo in cui questi fatti sono stati commessi i riferimenti temporali che ci offre la Procura della Repubblica sono questi e su questi dobbiamo ragionare sia noi che siamo operatori del diritto che chi si avvia a portare avanti queste iniziative mediaticamente così clamorose. Io ritengo però che una ulteriore riflessione vada fatta. La riflessione è quella per cui questo è il momento geneticamente rivisto dalla legge per un confronto in relazione a quelle che sono le accuse mosse al primo cittadino di Castellamare del Golfo. Questo e non un altro, è questo il momento in cui la difesa ha la possibilità di interagire con gli organi inquirenti. Noi siamo fiduciosi, estremamente fiduciosi, che dopo un primo alleggerimento sensibile della posizione del sindaco questo attraverso la compostazione degli atti possa essere il momento di offrire alla Procura della Repubblica l'ultimo e fondamentale step per poter chiarire definitivamente. Chiedere con forza un momento di riflessione su un'indagine così pesante all'intero Consiglio Comunale credo che possa essere anche un momento di dibattito importante. Dottor Messana, io non posso che condividere le sue parole, ma ricordo a me stesso che un consiglio straordinario legato a questa tematica è già stato fatto nei mesi scorsi. L'amministrazione non si sottrarrà mai un momento di confronto pubblico su queste tematiche perché le riteniamo centrali in un periodo storico in cui il rilancio dell'attività commerciale passa in sinergia a quello di un costante e attento controllo della legalità e della libertà. Per cui noi siamo sempre disponibili, siamo sempre disponibili al confronto e non ad uno scontro ideologico. Vicenza Abate, in una situazione del genere, si sarebbe dimesso? Se avessi la certezza di essere esente da ogni responsabilità non mi dimetterei. Non mi dimetterei per responsabilità nei confronti di quel mandato elettorale che ho ricevuto dai miei cittadini. Grazie a tutti.